...apparati contaturisti con l'invito a posto in più lingue a mettersi in fila indiana per essere contati. Da queste immagini è evidente come il sistema sia ancora in fase sperimentale e richieda una componente umana munita di blocnotes, ma presso un logaritmo a frattali relativi e frazionati determinerà con approssimazione di più 11-11 il concreto numero mensile degli accessi al salotto d'Europa. Grazie a fotocamere digitali, inoltre gli apparati saranno in grado di eliminare automaticamente dal conteggio le guine e le vittorie rigidi, i rilevanti e i fili delle statistiche sul turismo. Naturalmente non è vero, si tratta di Gerson, spieghi e di la Venezia.com in occasione del primo aprile. Avete corretto il conteggio in queste immagini è proprio Matteo Secchi, anima storica del gruppo. Uno scherzo, con uno sguardo, riporto però ai problemi reali di una Venezia sempre più in base a di turisti e alla necessità di una regolamentazione dei flussi. Magari che la speranza che un'iniziativa come questa rimanga sul segno è solo uno scherzo. Pensiamo allo sport.